Questa fase del fondo si chiama Diamo Lavoro, ma qual è il soggetto che dà lavoro? È una bella domanda perché il soggetto vuole essere un noi che non coincide semplicemente con la Chiesa ma vuole coincidere con tutta la popolazione, sono i cittadini ambrosiani, della Diocesi di Milano che danno lavoro agli altri cittadini. In questa gara potremmo dire intelligente a ricostruire un tessuto che invece la crisi economica corre il rischio di avere depotenziato se non addirittura spezzato. L'idea appunto è mettiamo insieme da una parte coloro che il lavoro lo creano, quindi le associazioni di impresa, le associazioni di categoria, con coloro che il lavoro lo cercano e il collante di tutto questo diventa il denaro che raccogliamo quindi dalla Diocesi, dai tanti cittadini di Milano che ci permette di ricreare futuro e quindi alla fine il risultato è una Lombardia più unitica, una Lombardia più capace di guardare al futuro. Pratiche di vita buona secondo quell'amicizia civica di cui parla il Cardinale. E non a caso il fondo si inserisce in questo grande disegno del Cardinale di tornare a creare futuro per Milano aiutando effettivamente a creare vita buona. San Giovanni Paolo II diceva la fantasia della carità, ci vuole inventiva, bisogna inventarsi ogni tanto qualcosa, anche se questo affonda un po' le radici nella vicenda millenaria della nostra Chiesa. È proprio vero, con una declinazione tipicamente ambrosiana legata al fare, quindi già San Carlo, diceva Don Davide nella conferenza stampa, aveva avuto intuizioni simili, ma se ci pensiamo anche Sant'Ambrogio si era mosso in questa linea, effettivamente penso che sia il contributo che una zona come Milano riesce a dare alla fantasia della Chiesa in generale.